Musica dal vivo, degustazione di vini, percorsi enogastronomici, specialità culinarie, eventi tematici immersi nelle atmosfere spaventose. C'è grande fermento apprezza per la seconda edizione di Halloween, manifestazione per grandi e piccoli tesa a celebrare l'autunno e la notte di Halloween a partire dalle 19.30 con l'avvio delle degustazioni di eccellenti vini di renomate cantine abruzzesi e di diverse regioni italiane. Champagne e vini francesi e sloveni. Lungo le strade del centro storico, tra allestimenti e location da brividi, sarà possibile assaporare eccellenze tipiche abruzzesi come i formaggi del bioagridorismo alla Porta dei Parchi, street food del Borgo Pacentrano e piatti gustosi grazie al contributo degli chef dei ristoranti Cantina di Biffi, Villa Letizia e La Sosta. Alle 20 al via concerti firmati montagni in jazz, dislocati nelle piazzette e angoli più suggestivi. Aglietterà la serata anche l'esibizione del maestro Antonio Gentile. Tante le novità quest'anno per un evento strepitoso che nella scorsa edizione ha riscontrato un grande successo, afferma il sindaco Merenna Scoccia. Halloween è una felice intuizione che coniuga musica di qualità, buon vino ed eccellenze gastronomiche tipiche del territorio, per consentire a grandi e piccoli di vivere la tradizionale notte del 31 ottobre in maniera accattivante, piacevole ed entusiasmante. Ringrazio la Prologo e tutti coloro che si sono impegnati per contribuire a rendere la serata ancora più speciale. Vi aspettiamo a prezza per celebrare insieme un Halloween indimenticabile.